Sì, hanno ripresentato questi che sono stati esclusi dal bando perché non avevano le caratteristiche per poter acquisire l'assalbimento e riqualificare i lavoratori. Questo gruppo Shara Holding ha fatto ricorso al Tarre di Sicilia. Giorno 9 ci sarà l'udienza, la Camera di Consiglio, per valutare il ricorso presentato. Naturalmente noi ci auguriamo che il ricorso venga rigettato anche perché noi abbiamo definito con la Holding Pelligra tutte le questioni che riguardano la ricollocazione dei dipendenti, gli investimenti, le risorse pubbliche. Pertanto noi ci auguriamo, i lavoratori si augurano, il territorio si augurano che questo ricorso non vada a buon fine. Naturalmente una possibilità che questo ricorso possa arrivare in porto diventerebbe un problema serio per la ricollocazione dei dipendenti e per la rindustrializzazione perché l'eventuale blocco dell'assegnazione, ricordiamo tutti che il 4 novembre scade l'amministrazione straordinaria della Cassa Integrazione e se ci dovesse essere un blocco o un'accettazione del ricorso questo potrebbe creare problemi notevoli. Si bloccherebbe la cessione e a quel punto si potrebbe pure decidere di fare una nuova gara. Però visto la partecipazione del gruppo Shara Holding che non ha partecipato per quello che veniva chiesto al bando noi ci auguriamo che questo non avvenga anche perché il 4 novembre scade l'amministrazione. Ad oggi la legge dice che non c'è la possibilità di proroga ma nell'ipotesi il tribunale dovesse accettare il ricorso e bloccare l'itere di cessione noi chiediamo al Ministero, al Mimiti, al Ministro Urso di fare una norma che possa prevedere la proroga dell'amministrazione straordinaria perché noi abbiamo già avviato tutto l'itere di cessione e siamo convinti assieme ai lavoratori che quello è il percorso migliore. Ma guarda, gli ultimi aggiornamenti li possiamo dare in funzione di quella che è la percezione dei ragionamenti fatti. Per l'Igra l'abbiamo incontrato, sembra che ha buoni propositi, ha chiarito che la sua linea sarà immobiliare, industriale e quindi c'è la volontà di andare avanti che si fa carico dei 350 lavoratori e quindi occorre ora trovare il sistema di ammortizzatore per accompagnare il resto dei 190, ma di questo siamo nella condizione di poter utilizzare i 30 milioni che fortunatamente la Regione Sicilia è riuscita a trovare in quei fondi sociali che oggi sono in bilancio mentre per quanto riguarda il ricorso della Ciara Holding dovremmo aspettare giorno 9 per capire se questo ricorso viene accettato o meno. L'Assemblea sicuramente oggi è informativa per quello che abbiamo in mano, giorno 8 le organizzazioni sindacali inconceranno il Ministero del Lavoro per capire e studiare quali sono gli ammortizzatori da poter utilizzare per accompagnare i lavoratori, però devo dire che si respira un clima sereno. Sì, ci sono state delle riunioni che riteniamo importante perché il processo che dovrebbe portarci alla reindustrializzazione e quindi al rimpego dei lavoratori, il percorso sarà davanti. Ci sono ancora dei problemi tecnici ovviamente da affrontare che sono anche delicati, per questo ci sarà il prossimo 8 luglio già un riunione al Ministero del Lavoro per capire con quali strumenti poter accompagnare e gestire questo processo di reinserimento della reindustrializzazione. L'aspetto positivo è che c'è un'azienda che si è dimostrata già in un incontro molto seria anche per quello che ha dichiarato e quindi a noi fa ben sperare che effettivamente ci sia, visto che il 4 membre è molto vicino e quindi la fine dell'amministrazione straordinaria, ci sia effettivamente una soluzione per tutti i lavoratori. Su questo ovviamente grava quello che è il ricorso presentato legittimamente da chi non si è già dedicato, però è chiaro che questo stesso ricorso potrebbe compromettere in maniera seria quello che è il percorso e quello che è forse l'unica possibilità di scongiurare i licenziamenti colettivi, dopo 13 anni di una pertenza così importante sarà veramente una beffa in primissima per i lavoratori ma anche per tutti i territori di termini meresi. È chiaro che il bando per l'Igla se l'ha giudicato per prendersi anche 350 unità, quello è il massimo che lui ha dichiarato che è stato ovviamente un punto per la giudiziazione del bando, rimarebbe fuori dal numero complessivo di Blutec circa 190 unità, che ovviamente sono quelli più prossimi alla pensione ma che ovviamente ancora non hanno il requisito per poter affrontare. Quindi il bacino è chiaro che la pellicra se è detta disponibile, diciamo, ad accogliere tutti i lavoratori è chiaro che si devono fornire gli strumenti per poter permettere a queste persone di essere accompagnate in un percorso diverso rispetto a quelle 350. Nel 2014 l'accordo di programma parlava e tutelava anche loro, effettivamente in questi anni sono state la parte più debole e meno tutelata. Noi già abbiamo chiesto che nell'ambito della riportenza di questa azienda che dovrebbe innescare un volano e quindi farli inserire ulteriori aziende, si dia precedenza all'assorbimento di quei lavoratori che in questo momento stanno soffrendo più degli altri. Si parla di lavoratori di serie A e di serie B, per noi sono tutti uguali, però è chiaro che in questo momento ci sono tutte le diverse e i lavoratori del bidotto sono quelli meno tutelati in questo momento.